La portata delle sorgenti non basta più, la morsa della siccità non si allenta e negli acquedotti della provincia di Sondrio l'acqua comincia a scarseggiare. Se nel corso dell'estate sono state diverse, ma non tutte, le amministrazioni comunali che hanno imposto ordinanze di limitazione nell'uso dell'acqua potabile, ora viene direttamente da SECAM un accorato appello ai cittadini affinché sia annullato ogni spreco. Considerato il protrarsi del periodo di siccità provocato dalla insufficienza di precipitazione piovose, scrive SECAM, abbiamo riscontrato già dall'inizio dell'anno un notevole calo delle portate delle sorgenti. Da quanto si rileva, sottolinea la società, lo stato di criticità attualmente in corso è sempre più preoccupante. Questo potrebbe causare scarsa disponibilità della risorsa idrica, considerando che le previsioni meteorologiche a breve termine non sono favorevoli. SECAM richiama anche la dichiarazione di stato di emergenza idrica emanata da Regione Lombardia lo scorso giugno e chiede a tutti i cittadini di dare il proprio contributo collaborando nel contenere i consumi, utilizzando in maniera responsabile l'acqua potabile, evitando l'irrigazione di orti, giardini, il lavaggio di automobili e piazzali e il riempimento delle piscine. No, quindi, a tutti gli usi diversi da quelli domestici e per l'igiene personale. SECAM, in qualità di gestore del servizio idrico integrato della provincia di Sondrio, fa presente che sta utilizzando tutte le risorse a disposizione, a garanzia del servizio, tramite il continuo pompaggio dai pozzi, emissioni di acque superficiali, interconnessioni tra più comuni e utilizzo di autobotti per il trasporto dell'acqua potabile. Si chiede a tutte le amministrazioni comunali, conclude la nota della società, di informare e sensibilizzare la popolazione, invitandola a non sprecare l'acqua potabile per attività non strettamente necessarie.